E ora, faltando appena alcun dia per la visita di Appareja Real, per preparazione a Comisacana, noi abbiamo già 5 o 13 ture di Dia, di Tainan Nobu, di Saki, di una maniera innovativa. In connessione con la visita di Appareja Real, noi di Ate e Veytava i 13 ture di Dia, un tiki pavolo di preparazione che sta andando per la visita di Dia. Tanto non è arrivato a dia 19, dia 21, concierto per dia 21, non vai back, Poi, noi abbiamo un'agenda planare con l'attività di Pazina 13, un tiki di ture preparazione che non lo sta facendo dentro di Dianan Aki. Hace una mese a Ishawe, il Dia 20 di Novembre, es Saki, Buxiribana, è il escenario di un gran concierto con diversi artisti locali, come Pazina Internazionale, che partecipano per celebrare la visita reale. La Pazina sta chiedendo a Dianan Nobu, di Ate e Veytava i G5, dove treze ture di Tainan Pabu, tanto di a llegare di artisti, di a llegare di a pareja reale, e a alcuna attività che sta passando, mentre che non sta in espera di a pareja reale. Poi, se ti ha alcuna pregunta o se ti ha fatto qualcosa, visita tambi il web site www.bixitareal2013.aui Wow, molto interessante. Wow, molto interessante.